Ciao a tutti e a tutte e a tutto ciò che c'è in mezzo, ci ritroviamo dopo qualche giorno perché come sempre durante i Grand Tour me ne devono succedere di ogni ma ci ritroviamo esattamente dove Mauro Vegni voleva che ci ritrovassimo tutti quanti alla vigilia di una tappa delle tre cime barra della conoscata del Lussari con tre protagonisti tutti molto vicini, tutti con delle ottime chance di vincere questo giro in base a quello che abbiamo visto finora e alla loro storia personale se vogliamo l'organizzatore del giro aveva costruito questa corsa rosa esattamente cercando di replicare secondo me ciò che accadde al Tour de France del 2020 vale a dire portare due o tre contendenti ad una crono finale, crono scalata o meglio metà crono normale, metà crono scalata la dicitura, la definizione di questa crono è di difficilissimo discernimento infatti fatemi sapere qua sotto cosa ne pensate comunque arriviamo a questi due tapponi finali con la possibilità di veder vincere il giro a tre contendenti lui probabilmente aveva in mente Renko contro Roglic e eventualmente uno dei due Ineos, Tau o Geranio e alla fine invece abbiamo Geran Thomas, Primoz Roglic e Joao Almeida Joao aveva vinto martedì sul bondone e invece oggi è un po' rinculato praticamente lui e Roglic si sono esattamente scambiati i ruoli fra le due tappe l'altro ieri Almeida ha attaccato, Thomas è riuscito a seguirlo e poi è andato a vincere la tappa dopo il lavoro della propria squadra Roglic aiutato da un compagno di squadra è riuscito a limitare i danni ha perso solo 25 secondi, oggi Primoz Roglic insieme alla sua squadra vale a dire a Sepkos sostanzialmente ha attaccato sull'ultima salita ha staccato Joao Almeida Geran Thomas è riuscito a seguirlo perché è il più grande cagnazzo di questo giro d'Italia e alla fine Joao con l'aiuto di un compagno ha limitato i danni e ha perso solo 21 secondi ma non è successo solo che con l'aiuto di un compagno ha limitato i danni perché quando siamo arrivati all'inizio dell'ultima salitella finale dopo la discesa, dopo il durissimo GPM di Koi Jay Vine non ce la faceva più però quel gruppettino che erano in tre Vine, Almeida e Dunbar l'incredibile di Dunbar di questo giro erano vicinissimi al trio Cass, Roglic e Thomas dopo che Cass aveva ripreso in mano la situazione conducendo davanti a discesa e poi riprendendo il ritmo all'inizio dello strappo finale a quel punto il Geranio si è girato ha visto che stava arrivando il gruppetto di Almeida e ha detto sai una cosa caro Joao tu oggi sei destinato a perdere un po' di secondi non puoi tornare su di noi non puoi ribloccare la situazione cristallizzarla io voglio mettere del distacco anche fra me e te come ho fatto l'altro giorno con Roglic allora ha dato una strappata fondamentale che Joao potrebbe ricordarsi forse per tutta la sua carriera eventualmente vediamo poi come andranno le prossime due tappe però potrebbe ricordarsi per molto tempo questi 20 secondi persi con la furbata del Geranio il Geranio ragazzi ha tutto sotto controllo ha 54 anni lui sa tutto ha una grandissima esperienza e capacità di gestione di se stesso lettura della gara sa sempre quello che sta succedendo e quando ha una gamba come quella di questo Giro Italia che gli è arrivata piano piano come sperava di fare a tutto l'anno beh è veramente difficile da battere il Geranio ma soprattutto è difficilissimo da staccare in generale è un tizio molto coriaceo che veramente ti s'attacca e riesce ad adattarsi a qualsiasi ritmo tu decide di dettare e poi eventualmente anche a rinforzare quando serve oggi è riuscito a portare anche Almeida a 40 secondi Roglic ne ha una trentina si pone come favorito con la maglia rosa alla vigilia dei due tapponi finali e sarebbe come si disse da tanti giorni ormai il più vecchio vincitore della storia del Giro un dato veramente molto molto importante quando c'è un record di longevità del genere che nell'aria restituisce molto bene l'impronta di un corridore in questo caso l'impronta del Thomas molto calcolatore estremamente bravo nel gestire se stesso che abbiamo conosciuto negli ultimi anni che ha già vinto un Tour of France e che non scordiamoci l'anno scorso è arrivato terzo al Tour dopo i due mamma santissima dei Grand Tour di questi anni quindi the best of the rest in un Tour dove c'era anche Roglic anche se sappiamo che poi gli è successo di tutto a livello personale e di squadra ma non dovrebbe sorprendersi eventualmente che il Geranio emerga su un field dove non ci sono i due fenomeni e dove è venuto a mancare anche Remco però ovviamente il suo Giro passa a queste ultime due tappe come il Giro di tutti in realtà questo Giro è ancora apertissimo potrebbe succedere di tutto la classifica finale dei primi tre potrebbe seguire qualsiasi tipo di sequenza in qualsiasi ordine vi venga in mente è possibile tutto quanto perché lo stesso Joao che oggi è sembrato abbastanza in difficoltà potrebbe aver vissuto oggi il suo singolo bad day di un Grand Tour come magari è successo a Roglic due giorni fa dicono alcuni ma secondo me non è vero Rogla a mio parere non ha mai avuto una grandissima gamba in questo Giro e ha dimostrato in più di un'occasione non staccando tutti i suoi cappuccini andando maluccio a crono per le sue abitudini e così via mentre quello di Joao potrebbe effettivamente essere stato il suo unico giorno negativo in questo Giro quindi eventualmente il botalume del bondone replicato sulla tappa ai domani e quella ai dopodomani può tranquillamente ancora vincere il Giro d'Italia tanto quanto Primoz Roglic è Primoz Roglic di base l'atleta più talentuoso dei tre quello che ha vinto di più in carriera e ovviamente lui sì che è in netta crescita e si è vista la differenza fra la tappa e l'altro ieri e quella di oggi che comunque sorrideva di più alle sue caratteristiche ma poi c'ha anche tra l'altro tirato fuori questa specie di bleffone o comunque questo suo comportamento abbastanza particolare in gruppo in generale durante tutto questo Giro è stato poco davanti al gruppo per le abitudini di un uomo che voglia vincerlo quel GT e stamattina si è fatto cogliere in preparato rimanendo indietro due volte sul Crosetta però non si capiva effettivamente se sarebbe stato un segnale importante di un Rogla che oggi non ne aveva oppure se era semplicemente Primoz Roglic Bing Primoz Roglic e così non aveva nessun motivo l'essere rimasto dietro in quel momento e infatti poi invece la gamba ce l'aveva la Jumbo Visma aveva palesemente preparato qualcosa Cass era prontissimo come sempre in terza settimana in montagna in un GT a fare da paggetto del suo capitano e stavolta Rogla ha staccato tutti tolto lo stesso geranio che finora è quello che sembra avere più gamba e che ha la gamba anche più continua all'interno di questa settimana è l'unico dei tre che è sempre arrivato davanti è un segnale molto importante sulla carta il problema del geranio invece qual è? probabilmente la crono scalata stessa non sembra essere molto adatta alle sue caratteristiche è un ottimo cronomen è un grandissimo scalatore ovviamente ha tanto fondo ma potrebbe forse soffrire quelle pendenze veramente estreme del Lussari lì il miglior Primoz Roglic potrebbe veramente far saltare il banco ed è quello che in teoria si presenta con più credenziali a quella crono scalata per questo sempre sulla carta dovrebbero essere gli altri due domani a cercare di mettere più tempo fra se stessi e lui ma la verità è che questa crono scalata sarà una specie di roulette russa nessuno di noi sa come andranno i tre perché è uno sforzo veramente molto diverso a quelli compiuti finora molto particolare che si vede raramente all'interno di un GT e sappiamo poi che alla tappa 20 lì crono scalata può succedere di tutto puoi prendere due minuti in un attimo anche solo per aver perso un attimo il ritmo e aver subito le conseguenze psicologiche di quello che ti dicono la radiolina l'abbiamo già visto ovviamente all'ultima crono scalata così decisiva in un Grand Tour che ripeto non so se era una crono scalata o meno bla 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 vale a dire quella della planche che secondo me oltre all'elemento atletico ha avuto anche un elemento psicologico al suo interno non indifferente quindi quali sono le chance dei tre non ne ho assolutamente idea prima di tutto dobbiamo vedere cosa succede domani alle tre cime non penso che succederà molto prima dell'ultima salita fra loro tre fra tutti gli altri succederà letteralmente di tutto prendiamo la vasca di pop corn perché ovviamente questa è una delle tappe dell'anno tutta la lotta per la top 10 la maglia blu sarà un casino e mezzo la tappa di domani sul Zau si muoverà sicuramente gente come Caruso se ne ha Carty che oggi però si è cappottato clamorosamente magari Chemna chiunque ne abbia un pochino di quelli vagamente liberi cercherà di evadere Thibaut Pinot e poi invece credo che avremo un grandissimo showdown sulle tre cime dei tre strambi personaggi che si giocheranno questo giro Italia uno più simpatico dell'altro obiettivamente io li definirei il bello il brutto e quello in ciabatte in chiusura un grandissimo applauso per Filippo Zana che oggi ha colto il suo successo più importante dopo una fuga veramente imperiale da parte sua ha fatto un giro fantastico dal punto di vista tattico lo trovo veramente a un livello avanzatissimo questo ragazzo che credo potrà diventare uno di quegli italiani veramente dall'altissimo IQ che anche in nazionale fanno bene e che potrà togliersi delle belle soddisfazioni non mettiamogli stupide pressioni addosso quali vincerà il GT vincerà questo e quest'altro per ora è un ottimo cazzatore di tappe uomo da classiche vallonate e poi vedremo cosa succederà anche per i giri brevi eventualmente ma godiamoci questo fantastico Filippo Zana che ha aiutato più di una volta i suoi compagni a vincere o a far molto bene in questo giro quindi sia Michael Matthews sia Eddie Dunbar come dicevo gli aiati di GCN è un corridore estremamente completo e ha battuto un Thibaut Pinot che in questo giro ha replicato la parodia di se stesso all'infinito in una maniera che risulta veramente difficile da credere cioè ogni volta riesce a essere clamorosamente uguale a se stesso Thibaut Pinot è fedele proprio al personaggio e in questo giro fondamentalmente ha fatto sempre la stessa cosa troppo generoso tira sempre lui si incazza con gli altri perché non tirano abbastanza d'altronde gli altri sanno a che lui è molto forte e va rispettato e bisogna specularcisi sopra b che ogni volta si perderà i nervosismi e andrà a loro favore già l'aveva sfruttato Rubio oggi l'ha sfruttato Zana che gli è riuscito a rimanere attaccato in qualche modo ha fatto praticamente un miracolo a rimanere con lui su tutte le salite e poi ha potuto sfruttare il fatto che Pinot ha lanciato una volata tipo dalla salita precedente comunque spero che Thibaut alla fine si porti a casa la maglia Emilio Scalatore che è assolutamente un riconoscimento perfetto per uno come lui secondo me questo elemento proprio sfortunato che attacca tantissimo va molto forte in salita non vince mai una tappa è proprio preciso secondo me è molto più adatto di Ben Healy che ha già vinto la sua bellissima roba in questo giro e comunque domani proverà sicuramente a sfilargliela e immagino anche che ci riuscirà in realtà visto che oggi Pinot è anche tornato in classifica ha fatto questo strano gioco di entrare e uscire dalla classifica per tutto il giro o meglio rimanere sempre lì e nel frattempo puntare alla maglia blu però no e puntare alle tappe vabbè alla fine ha fatto un pastrocchio vediamo se almeno una cosa se la porta a casa dai Thibaut detto ciò questo era il mio mini pietre processo di oggi spero di avere l'opportunità di fare un gran bel video domani dopo una gran bella tappa ripeto non mi aspetto granché dagli uomini di classifica fino agli ultimi chilometri ma mi aspetto anche che gli ultimi chilometri siano come la marmolada dell'anno scorso un delirio assoluto e poi lo dico fin da ora sabato alla crono dell'ussari si decide il giro e ce lo guardiamo insieme torna il watch along live qua su youtube attenzione che io la guarderò su aerosport online quindi poi dovremo tutti settarci sul giusto timing di no spoiler mi raccomando lo dico fin da ora perché sarà un problema ma spero che sia una bella esperienza per tutti goderci questa clamorosa cron scalata tutti insieme sperando anche di avere qualche ospite domani vi darò le coordinate precise di questa live prima di quel momento se non l'hai ancora fatto iscriviti like abbonati iscriviti qua sotto chi è il tuo favorito per questo giro italia e perché alla vigilia dei due tapponi finali noi ci vediamo ai prossimi video ciao 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 ciao